Buongiorno e ben ritrovati! Andiamo a vedere oggi un esercizio da tabella di verità a mappa di Carnot e circuito logico. Abbiamo una tabella di verità con tre variabili di ingresso e ho messo gli 1 dell'uscita in combinazione di alcune righe. Quindi nella fattispecie, ad esempio qua, 000, 001, 100, 101 e 110. Riportiamo questi 1 nella mappa di Carnot relativa e quindi avremo 0A, 0B e 0C il primo 1, 0A, 0B e 1 di C il secondo 1, poi abbiamo 1, 0, 0 quindi 1, 0, 0 qua, 1, 0, 1 qui, 1, 0, 1 qua e 1, 1, 0 qui, 1, 1, 0. E qui è la nostra mappa. Andiamo a vedere il discorso dei raggruppamenti. Ricordiamoci sempre che i raggruppamenti devono essere i più grandi possibili. Quindi in questo caso non posso andare a prendere singolarmente questi 1, questi 1 e poi questo, ma devo andare a prendere questi 2 1 con questi 2 1 qua. Ricordatevi sempre che di guardare la casella distanza 1 anche per quanto riguarda la parte opposta, nel senso che bisogna sempre pensare alle mappe come se fossero disegnate in un tondo, cioè come se questa qua si chiudesse ad anello qua e questa si chiudesse ad anello di qua. Quindi andare sempre a controllare le parti dei bordi che sono quelle più ingannevoli. Quindi andiamo a fare i nostri raggruppamenti. Come in tutte le cose basta fare tanti esercizi e poi si comincia a prendere l'abitudine e avere l'occhio. Allora prendiamo questi 2 1 con questi 2 1 e così abbiamo il nostro raggruppamento da 4. Dopodiché ci rimane questo 1 singolo che non andremo a prendere singolarmente, ma lo andremo a raggruppare con l'1 più vicino. E quindi in questo caso la nostra funzione verrà y uguale. Allora andiamo a vedere il primo raggruppamento da 4. Qui abbiamo A che vale qua 0 e qua 1, quindi varia, non vado a metterla. B qua vale 0 in tutti e 4 e qua vale 0, quindi vado senz'altro a metterla. E C varia da 0 a 1, quindi non la vado a mettere. Quindi qua andrò a mettere b negato. Secondo raggruppamento Andiamo a vedere questo da 2. Quindi qua abbiamo A che va 1, 1, quindi non varia. E quindi andremo a mettere A. B va da 1 a 0 e quindi varia, non la vado a mettere. E C vale 0 sia qua che qua e quindi vado a mettere C negato. Vado ad implementare la mia funzione, la mia rete logica con le porte, quindi vado a mettere i miei tre ingressi. A, B e C. E per prima cosa vado a fare le negazioni, quindi vado a prendere B negato, C negato e vado a mettere le porte note. e vado a scrivere all'uscita delle mie porte che cosa ho fatto. Quindi qua ho fatto B negato da riportare B negato e qua C negato. poi C negato deve essere in AND con A quindi prenderò il A così e vado a mettere questa e questa in una AND e qua vado a riportare che all'uscita di questa ho realizzato questo dopodiché vado a mettere questo il B negato con A C negato in una OR ecco qua così ho implementato il mio circuito con la funzione descritta qua ora facciamo una piccola variazione vediamo se ad esempio invece di avere questo avessi avuto qua una indifferenza quindi se io qua ad esempio vado a mettere una X una condizione di indifferenza è una condizione che o non viene mai verificata cioè comunque sia non potrà mai essere un qualche cosa per cui A in questo caso A, B e C valgono contemporaneamente 1 oppure diciamo anche se c'è non mi interessa che cosa che cosa succeda all'uscita in qualche modo che sia 0 sia 1 non è una cosa che mi interessa e quindi in genere si mette una X si mette una X e questa X viene considerata 0 o 1 a seconda di quello che mi fa più comodo in questo caso se io qua avessi avuto una X mi faceva più comodo che questa X fosse un 1 perché io avrei potuto fare un altro raggruppamento da 4 e quindi in questo caso avrei fatto una cosa di questo tipo allora io vado a toglierlo da qua e qui vado a mettere vado a levare questo rimettere questo e in questo caso avrei avuto un altro raggruppamento da 4 attenzione ricordate che i raggruppamenti devono essere sempre potenze del 2 quindi attenzione a non fare raggruppamenti da 6 quindi raggruppamenti da 1 da 2 da 4 da 8 e così via quindi in questo caso Y sarebbe stato allora la prima è sempre uguale quindi era un B negato comunque primo raggruppamento esattamente come prima or in questo caso avremmo avuto questo raggruppamento qui quindi qui avevamo A che vale 1,1 e quindi sicuramente A B 1,0 quindi non si mette C 0,1 quindi non si mette e quindi avremmo avuto una cosa di questo tipo una cosa di questo tipo che se volevamo andarla a implementare come allora così vediamo se riesco a metterlo qui facciamo così qua avrei avuto una normale e quindi una cosa così dove qui andava a raccordarmi con una normale quindi la variabile in questo caso la variabile C era del tutto indifferente ai fini della progettazione del circuito logico giusto per vedere anche un altro caso quindi A B e C bene con questo l'esercizio è concluso spero di essere stata chiara e spero di esservi stata ad aiuto se è così mettete un mi piace iscrivetevi al canale ci vediamo domani per un altro esercizio ed altri ragionamenti